oggi sono in piemonte in provincia di verbania nel comune di toceno e precisamente nella località di arvogno metri 1242 ho appena parcheggiato sono le 8 e 40 e vorrei raggiungere il pizzo la scheggia eccolo di fronte a me a metri 2466 in questo punto si abbandona la strada asfaltata che scende si prende a sinistra sentiero m15 verso l'alpe cortino l'alpe forno rifugio regi si parte subito in discesa su questo sentierino sono quasi arrivato al torrente melezzo discesa è stata piuttosto ripida molto bello comunque questo bosco bellissimo l'ambiente ora devo fare questo secondo ponticello sul rio melezzo questo è il ramo occidentale ecco c'è una corda di sicurezza ed ecco il secondo ponticello sembra una piscina ora ci sono delle corde per attraversare quel tratto ora inizia la salita vera e propria dopo aver attraversato il torrente melezzo sono in una bella faggeta ora si tira un po il fiato dopo la ripida salita nella faggeta sono arrivato al primo alpeggio l'alpe coyer nei 3.164 questa pallina segnaletica indica alpe forno rifugio regi due ore pizzola scheggia ancora tre ore 30 proseguo sul sentirò m 15 sentirò finora è ben segnalato poi bolli di vernice bianco rossi ecco ora c'è da attraversare questo corrente c'è da un bel problema soggiatemi bagnerò al piedi sono uscito ora dal bosco c'è una bella radura proseguo sul m 15 verso l'alpe an fir 40 minuti l'alpe forno un'ora e 40 pizzola scheggia tre ore 10 sono arrivato un altro bivio pizzola scheggia due ore 50 sinistra abbandonato il sentiero m 15 proseguo sul sentiero m 13 una bella faggeta ecco in fondo al centro pizzola scheggia è ancora molto lontano con l'erba che cresce si sta cancellando anche la traccia bisogna fare attenzione sono giunto alle baite dell'alpe an firn bellissimo il paesaggio ecco di fronte a me arvogno dove ho parcheggiato vedo le macchine e la val di gezzo la bellissima alpe an firn di 3468 bellissimo panorama ora lungo questo traverso sono diretto verso l'alpe forno dove si trova il bivacco regi l'ennesimo corso d'acqua da superare ecco pallina segnaletica alpe forno a sinistra 50 minuti pizzola scheggia ancora due ore 20 sentiero m 15 veramente ripido adesso il sentiero sono questi gradoni da fare ora la traccia veramente nascosta dall'erba alta si inizia a intravedere l'anfiteatro roccioso che chiude la valle il mare di rododendri in fiore bellissimo spettacolare lo sperone roccioso ecco all'improvviso spuntare l'alpe forno con il bivacco regi magnifico poi oggi è una bellissima giornata limpida questa bastionata rocciosa è stupenda ecco poi dovrò proseguire qui a sinistra fare un traverso e poi prendere tutta la cresta per arrivare al pizzo la scheggia i vacco regi a metri 1888 bellissimo il panorama sulla valle vigezzo dopo una breve sosta presso l'alpe forno il bivacco regi a metri 1888 riprendo la salita verso pizzo la scheggia che viene dato a un'ora e mezza sto facendo il traverso che mi porta verso la dorsale verso la cresta ora c'è un tratto ripido dovrei essere sulla dorsale bisogna fare attenzione a queste placche che possono essere scivolose ecco dove ero poco fa sotto bivacco regi alpe forno i vari alpeggi e dall'altra parte dall'altro versante Arvogno dove ho parcheggiato e questo finale mi sa che è il tratto più complicato adesso vediamo spettacolo ci sono delle roccette da fare penso che bisognerà aiutarsi un po' con le mani ecco la val d'ossola ecco la cima sono le 13 e un quarto pensavo di non farcela ho perso la traccia finalmente è stata dura questa dorsale ecco le roccette finali ora è 13 e 18 sulla cima del pizzo la scheggia mentre i 2466 la cima più alta della val vigezzo oggi è una giornata spettacolare limpido solo qualche nuvoletta una panoramica alla cima del pizzo la scheggia sotto Arvogno da dove sono partito si vede il parcheggio colma di Craveggia in fondo il limidario o gridone torrigia sotto la val vigezzo Malesco la cima il monte Mater in fondo il monte Zeda la cima della Lagunasca al termine della Val Luana Pizzo Ragno la Val d'ossola sotto Domodossola in bocca della Val Bognanco le piste di Domobianca Monte Rosa Pizzo Andolla il trittico del Sempione i 4.000 svizzeri il monte Leone e il Breithor ecco il monte Leone ecco qui davanti la Piazza di Grana di nuovo la Val Vigezzo di nuovo la Val Vigezzo sono le 15 devo rientrare mi aspetta un lungo ritorno c'è il tratto più insidioso più difficile più impegnativo tutta la dorsale che scende verso il bivacco Regi dal Peforno ecco sotto a sinistra la conca col bivacco Regi ultimo sguardo alla vetta questo tratto è un po' esposto bisogna stare attenti all'erba scivolosa assaggio ripido un po' esposto è ancora lunga la dorsale è ancora lunga la dorsale bellissimo questo vallone questo anfiteatro roccioso la Piazza di Grana sotto il bivacco Regi o Alpe Forno ecco primo tratto di dorsale è stato fatto eccola in fondo Arvogno come è ancora lontano inizio la discesa in diagonale verso la conca dell'Alpe Forno del bivacco Regi ecco da dove sono sceso sono le 16.20 sono arrivato al bivacco Regi presso l'Alpe Forno quindi ho piegato un'ora e venti a scendere dalla Pizzola Scheggia quindi piuttosto lunga anche scendere lungo la dorsale ecco la dorsale che ho fatto bellissimo questo anfiteatro di montagne sarei stato volentieri qui ancora a riposare ma sono le 16.30 devo rientrare ho ancora due ore un quarto o almeno di cammino per arrivare ad Arvogno ho raggiunto di nuovo il bivio ecco proseguo ancora a destra come stamattina seguo la M15 verso Cortino Alpe Cortino le baite di Anfirn i 3.468 di fronte a me è Arvogno e a sinistra il Pizzoruggia sono arrivato al bivio nei pressi dell'Alpe Cortino che però non raggiungo infatti l'Alpe Cortino viene dato viene data a cinque minuti io proseguo verso Arvogno ancora un'ora e cinque adesso devo riattraversare di nuovo come stamattina questo torrente vediamo un po' da che parte provare sarà facile mi sembra che ci sia anche più acqua e poi mancano dieci minuti alle sei cammino da prima delle nove si può dire che non ho incontrato anima viva ripida discesa verso il torrente Melezzo che dovrò attraversare poi risalire dall'altro versante per arrivare ad Arvogno al parcheggio della macchina bellissimo il torrente Melezzo limpidissimo vedo anche una trota questo è il secondo ponticello sul torrente Melezzo orientale e ora per finire la giornata un'altra salita spezza gambe ora c'è questa zona paludosa piena di ruscelli veramente ripida questa salita finale sono le 18.30 sono ritornato sulla stradina asfaltata nei pressi di Arvogno ecco la pallina segnaletica e quindi termina questa impegnativa ma bellissima escursione al pizzo la scheggia grazie 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 a tutti. 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 Grazie a tutti.